Domanda turistica in forte ripresa, ma ancora sotto i livelli pre-Covid e quanto emerso dai dati dell'indagine Istat sulla base dei dati forniti dalla regione toscana. L'analisi comprende vari indicatori e si sofferma ad analizzare l'andamento dei flussi turistici nelle varie province. È dunque il momento in cui è possibile rialzare la testa dopo anni di difficoltà dovuti alla pandemia. Gli arrivi nella provincia di Arezzo rispetto al 2021 crescono del 39,1%. Il numero dei turisti rimane ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia, ma il differenziale rimane comunque positivo se riferito al dato complessivo della Toscana. In questo contesto va segnalato il numero dei pernottamenti nel territorio aretino, che supera addirittura i livelli pre-pandemia del 2,9%. Interessanti anche i dati riferiti alla provenienza dei turisti ospitati, presenza di turisti stranieri in crescita, ma ancora lontana dai livelli pre-Covid, mentre migliore è la componente nazionale. Qui la forbice è più ridotta rispetto al periodo pre-pandemia. La presenza di turisti stranieri più numerose è quella di tedeschi e americani olandesi, mentre per gli italiani vanno segnalati e quelli dei turisti dal Lazio, Lombardia e dalla Toscana. Ottimi risultati per le strutture extra-alberghiere, meno brillanti per quelle alberghiere. Segno che la ricettività conosce oggi forme sempre più diversificate. I dati quindi evidenzano la ripresa nel 2023 e, se confermati nei prossimi mesi, ci sarà il superamento dei livelli pre-pandemici. Grazie. Grazie.